Venerdì sera nella Basilica Vaticana ha avuto luogo la traslazione del corpo del beato Papa Innocenzo XI dal vano sotto l'altare della cappella di San Sebastiano a quello appositamente preparato sotto l'altare della trasfigurazione che si trova alla sinistra della navata centrale. Nella cappella di San Sebastiano dove sono stati ultimati i lavori di restauro e rinnovamento degli impianti di illuminazione e amplificazione, il vano sotto l'altare è ora predisposto per raccogliere il corpo del beato Giovanni Paolo II dopo la beatificazione. L'urna di Innocenzo XI è stata accompagnata ieri in processione all'altare della trasfigurazione. Il rito si è concluso con l'orazione e la benedizione del celebrante e la lettura e la firma dell'atto notarile sull'avvenuto trasferimento.